Mi è venuta un'idea per far pace con Mattia! Sì, sì, mami, voglio questo per Mattia! È bellissima! Sì, però Giorgia adesso va impacchettato, perché se no arriva Mattia e lo trova ancora così! No, non vedo l'ora di aprile, sono proprio curioso! Gizia, dov'è Giorgia? Eh, dov'è? Lo sai dove? È su in camera, è ancora arrabbiata perché ha litigato con Mattia e non sa come farà a farci pace! E vabbè, dai, prima o poi faranno pace! Ragazzi, sono ancora triste perché ieri Mattia è andato via pensando che a me mi piaceva un altro bambino! E abbiamo lì Sigaso! Mi deve per forza venire un'idea per farci pace! Forse mi è venuta un'idea! Mamma, mamma! Mamma, mamma, mamma! Mamma, mamma! Amore, ciao, dimmi! Mi è venuta un'idea per far pace con Mattia! Che cosa ti è venuto in mente? Dimmi tutto! Essendo che a Mattia gli piacciono sia le macchine e che fare il DJ, Li possiamo trovare un legalino! Così magari possiamo fare pace! Giorgia, ottima idea! Ti do una mano, guardiamo sul computer! Ok! Questo ti piace? No, non mi piace, mamma! Ok! Questo? Sì, questo è bellissimo! Bit Hero, vediamo cosa fa, Giorgia! Auto e console musicale! Quattro diverse modalità di gioco! Modalità DJ con tre battiti! Sì, c'è in Pop, Pop e TM! E puoi registrare il tuo pezzo e riascoltarlo! Sì, 22 effetti sonori! E cambiano in base alla modalità di suono! Oh, una vera console DJ! Sì, sì, mammi! Voglio questo per Mattia! Secondo me gli piacerà un casino! Vediamo quando arriva! Tra qualche ora, Giorgia! Comprato! Che bello, mamma! Sono contentissima! Adesso li telepono subito a Mattia! Ok, amore! Ragazzi, se pensate anche voi che ho avuto una bellissima idea, lasciate tanti pollicioni! Spero che con questo super regalo riesco a fare pace con Mattia! Pronto? Ciao, Mattia! So che sei arrabbiato con me, ma ti ho fatto un super regalo! Volresti venire a casa mia? Ah, un super regalo! Arrivo! Tra quanto arrivi? Tra l'ora e te arrivo! Ciao! Ok, ti aspetto! Ciao! Che bello, ragazzi! Mattia, vieni a casa mia! Sì! Ma tra quanto arriva il pacco? Mi sto annoiando! Hanno suonato! Forse è arrivato il corriere, sì! Mamma, mamma, hanno suonato! Posso andare io? Di sicuro è arrivato il corriere! Sì, va bene, Giorgia! Vai! Di sicuro è arrivata la macchina! Mamma, mamma! È arrivato il regalo di Mattia! Vieni, Giorgia, vediamo! È arrivata! È bellissima! Mamma mia, prima di incardarla, per favore, me la fai provare? Ma certo! Questa che serve? Sono sicura che quando Mattia vedrà questa Beat Hero, sarò felicissimo! Ma certo, Giorgia! Guarda qua quante luci, suoni! È spettacolare! È vero! Non vedo l'ora di fare la DJ insieme a Mattia e creare la nostra musica! Sì, però Giorgia adesso va impacchettato perché se no arriva Mattia e lo trova ancora così! E gli roviniamo la sorpresa! Wow, mamma mia! Per me a Mattia le perderò un sacco! È vero, Giorgia! È venuto proprio fuori un bel pacco! Senti, ora questo lo lasciamo qui, ok? Però bisogna uscire per andare a comprare qualcosa per fare merenda con Mattia! Eh sì, è vero! Andiamo? Sì! Vai! Vai Giorgia, muoviamoci prima che arrivi Mattia! Sì, sì, dai, corri! Chizia! Giorgia! Eh, sbaglio o sono usciti fuori di casa? Ma questo qui è un regalo! Oh, no! Poi, non capisco perché mi hanno fatto un regalo! Non è il mio compleanno! Però, no, non vedo l'ora di aprirlo! Sono proprio curioso! Sono proprio curioso di vedere che cosa c'è dentro! Non so però se aspettarle oppure aprirle adesso! Di sicuro me l'hanno fatto perché mi amano! Vabbè, io lo apro, però voi lasciate tanti like! Una macchina da bambini! Però, ragazzi, lo dobbiamo ammettere che è troppo bella questa macchina! Beat Hero! Anche il nome è bellissimo! Ma poi guardate che ruote giganti! Guardate che luci che ha sopra! La voglio proprio provare! No! Ah, l'attacco per le cuffie! Così puoi suonare la tua musica con le cuffie come un vero DJ! 22 effetti sonori e puoi registrare il tuo pezzo e riascoltarlo! Modalità show! Selezionando la Beat Hero ti permetterà di goderti lo spettacolo ballando! No, ragazzi, la voglio solo aprire! Ragazzi, dobbiamo ammetterlo! Questa Beat Hero è veramente fantastica! Ma poi la cosa più bella è che la consulta DJ è sopra la macchina! Guardate quanti colori! La voglio provare! Eeeh... Ragazzi, sarà anche da bambini! Però io mi ci diverto un sacco! Dai mamma, muoviti! Prima che arriva Mattia! Sì, sì, Giorgia! Arrivo! Dai mamma, muoviti! Avvivo! Mamma, mamma, ma che cosa hai fatto? Come cosa hai fatto? Poi metti il regalo che mi avete fatto il tuo e la mamma! Ma mamma, questo regalo non era per te, era per Mattia! Hai rovinato la sorpresa per Mattia! E io adesso come faccio a farci pace? Non ti voglio più vedere! Che cosa è successo alla Giorgia? Cosa hai fatto? Che cosa ho fatto? E io ho visto un regalo sul tavolo! Pensavo che fosse per me! Mica c'era scritto il nome che era per Mattia! E io l'ho aperto e ci ho giocato un pochino! Salvo! Ma non si aprono i regali degli altri! Poi era per Mattia! Ma non lo vedi che è da bambini! Scusami! E ho capito che non si aprono i regali degli altri! Ma non ce l'ha scritto il nome! E poi era così divertente che ci ho giocato un pochino! Dai, non è che gliel'ho rotta! Sì, non gliel'hai rotta! Però gli hai spacchettato il regalo e gli hai aperto la confezione! E lei l'ha comprato per Mattia per farci pace! Dai, Salvo! Mi potevi anche telefonare, no? Per sapere se lo potevi aprire! Poi sta arrivando! E ora come si fa? Ma io non l'ho fatta apposta! Allora, Salvo! Ora fai così! Vai subito su dalla Giorgina e facci pace! Va bene? Ok! Giorgia! Giorgia! Chi è? Sono io! Babbo! Badone, non ti voglio parlare! Dai, Giorgia! Non l'ho fatta apposta! Perdonami! No, io non ti perdono! Io non ti voglio vedere almeno per una settimana! Hai rovinato! Una sorpresa per Mattia! Badone! Sei un babbo cattivo! Cioè... Hai aperto il regalo che io dovevo dare a Mattia! Che io non l'avevo promesso a Mattia che c'era un regalo per lui! E te che hai fatto? Le hai rovinato la sorpresa! Uffi! E ora quando arriva che cosa le faccio aprire? Giorgia, ma neanche una parolina possiamo dirci? Dai, vediamo se troviamo una soluzione insieme! No! No! Non ti voglio vedere! Ah, ok! Mi sa ragazzi che questa volta l'ho combinata grossa! Cizia! Com'è andata? Già fatto pace? Eh, sì! Magari fatto pace! Ha detto che non mi vuole vedere almeno per una settimana! Eh, me lo immaginavo! Combini sempre un sacco di guai te! Senti, non mi interessa! Risolvi subito la situazione e alla svelta! Che cosa posso fare? Come posso risolvere questa situazione che ho creato? Eh, c'ho un'idea! Cizia! Ragazzi, è tutto colpa del papà! Ha rovinato tutto! E adesso quando arriva Mattia cosa le faccio aprire? Adesso quando arriverà Mattia e non so nulla da aprire si arrabberà ancora di più! E non parlerà veramente mai più con me! Cizia, mi sa che ho trovato forse la soluzione! Eh, che quale soluzione? Mattia, fra quanto arriva? Fra quanto arriva? Eh, una mezz'oretta! Una mezz'oretta! Ok, ce la dovrei fare! Allora, cerchi di tranquillizzare i giorni già! Io vado al negozio, mi riprendo un'altra, gliela faccio già confezionare da loro e arrivo subito prima che arriva Mattia! Va bene? Vado! 15 minuti dopo! Oh, Cizia! È già arrivato Mattia? No, non è ancora arrivato! Sei stato fortunato! Giorgia, Giorgia! Ho comprato un abitino nuova! Scendi! Un abitino nuova! Grazie, papà! Ok, ora così potete fare pace con Mattia! Va bene? Sì! Allora, Giorgia, sei contenta adesso? Per abitino sì, ma ancora a te ti devo perdonare! Eh, ok! Sì, arriva! Un attimo di pazienza! Ah, ecco! Ciao, bro! Ciao, Mattia! Mattia, guarda cosa ho qui per te! Un regalo! Sono proprio curioso! Vieni con me che te lo faccio scartare in camera, altrimenti il babo fa un altro guaio! Vieni, Mattia! Ok, Mattia, lo puoi aprire! Sono curiosa di vedere la tua faccia quando lo vedrai! Allora, Mattia, ti piace questa Beat Hero? Giorgia, ma è bellissima! Grazie! Questa, Mattia, non è solamente una macchina, ma è una macchina che sembra una consulta al DJ! Ci puoi attaccare le cuffie e ascoltare la musica che hai registrato, oppure le attacchi alle casse, così gli dai più volume! Lo proviamo insieme, Giorgia! Ok, DJ Mattia, creare la tua musica! Ok, DJ Mattia, creare la tua musica! Ok, DJ Mattia, creare la tua musica! Salvo, ora è un po' che stanno giocando, vai a vedere se hanno fatto pace! Ok, vado! Allora, DJ Mattia, come sta andando? Alla grande, bro! È bellissima questa Pit Hero! Allora, ragazzi, avete fatto pace? Vi siete chiariti? Sì, bro! Giorgia mi ha spiegato tutto! Io avevo capito male! E il regalo è bellissimo! Grazie mille! Ok, sono contento! A questo punto io vado giù, voi continuate a giocare, ma soprattutto non state troppo vicini! Ci siamo capiti? Ci siamo capiti? Mammina, babbo, sempre le stesse cose, non ti preoccupare! Vai, via, via, via! Ok, vado via! Allora, Salvo, hanno fatto pace? Sì, sì, hanno fatto pace! Lui è contentissimo dell'abitino! Ragazzi, non so perché, ma io non mi fido di Mattia! Quello adesso, di sicuro, è vicino alla Giorgia! È meglio che vado a controllare! Aspetta te! Oh, voi due! Lo sapevo che ci provavete! Avete fatto pace, giusto? Eh, sì! Perfetto! Allora, questa prendila, ok? Andiamo, che ti accompagno fuori! Sì, Giorgia, te non ti preoccupare! Lo accompagno fuori perché dobbiamo andare a fare la spesa! Babbo, ma abbiamo fatto prima la spesa io alla mamma! Sì, però la mamma si è dimenticato di comprare una cosa! Uff, però, ora che abbiamo fatto pace! Dai, non ti preoccupare! Tanto, di sicuro, ritornerò la prossima volta! Ti avvii ci vedi con me, che mi accompagno fuori! Vieni! Veloce, vieni, veloce! Ciao, Mattia! Ci vediamo la prossima volta! Forse! Mannaggia, mi ha buttato fuori dietro anche stavolta! Però vado a via in questa bellissima abitino! Oh, ragazzi! Mattia è andato via di spontanea volontà! E' tutto bene quel che finisce bene! Giorgia ha fatto pace col suo fidanzatino Mattia, grazie a me! Non direi tanto grazie a te! Sì, vabbè, sorvoliamo sui dettagli! Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like! Attivate la campanita degli aggiornamenti! E se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! Io e Giorgia Contenta, che ha fatto pace finalmente con Mattia! Spero per poco! E vi salutiamo con un grande... Wow! Ciao! One, two, three! Wow! Noi siamo Salva e Giorgia! Wow! Divide è sempre una pioggia! Con mamma ci inseguiamo e ne combiniamo tra giochi e risate! Sai che ci diventiamo? Wow! Tanto divertimento, ma che casino! Andate!